ue 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 amici sportivi di melagodo ben ritrovati dal vostro gialluciccio valenti con me oggi ci sono mollu, gianmarco, clint, chakra e jtaz per il video delle freccette 200 anni per di una frase lo slow motion lo slow motion comunque oggi faremo le freccette come si svolgerà il torneo che abbiamo deciso di fare praticamente si fanno tre partite iniziali da cui usciranno tre semifinalisti e poi verrà estratto un quarto semifinalista a caso tra i tre che hanno perso e poi ovviamente ci sarà il semifinale, finale e il vincitore assoluto la gran finale siamo pronti c'è crone sono nato pronti la sfida leggendaria let's go via le regole non ci sono ben chiare però siamo pronti a scoprirle nel percorso sarà ancora più avvincente ma meglio così o almeno portiamo un po' di sana ignoranza in questo video addio e jimmy perchè hai quel tatuaggio e sei in mutande lancio secco, lancio nel primo che si avvicina più al centro allora lancio era così sbocca eh ma jimmy il mio tipo ha la mano che trema eh pure il mio eh c'ha un pochettino di c'è il vento è un po' schifo jimmy lancio secco vinto ma ne fai un botto così no troppo tirare oh centro centro sbemme vabbè dai jk io aspetta ah cazzo e jimmy tight regà va bene va bene ci siamo fatti già 100 punti ottimo vabbè dai dillo che quando vai al bar giochi a frecciata tocca a te to va forco schifo ho il tempo momenti di tensione si hai 4 secondi 3 secondi 2 secondi eh eh oh 25 ok ma fai schifo cioè e ricevi a me mamma mia mi sono preso il getter allora eh gpu e lei va fanculo ahhh ok questo è centro no che cazzo ho sfanculato male ho sfanculato male oggi jimmy te l'hai giocata qua eh ah eh guarda mi sono 13 dai g fucking cric va bene il parking su stavolo al braccio jimmy usa r2 usa r2 vedi con z che caccia r2 r2 fidati perché ti ho aiutato troppo vero ah chazzo io lo sto facendo ancora con la mano morta io lo faccio con la mano che trema tutto il tempo ooo doppio centro e ma 11 aspetta come farlo ooo eh ma jimmy non hai capito come funziona il gioco oddio è vero cazzo il posto che faccio così è pronto ho fatto 6 e io non so come cazzo si gioca a sto gioco se io tiro qua eh no quando arriva un numero più piccolo ti so aiutare di più perché mo ritira un'altra volta eh non capisco come si faccia ho fatto troppo cioè ho fatto troppi troppi cilte ti rendi conto siamo messi a un livello così contiamo il numero più alto qua che è il problema è che mo a 19 come cacchio ci arriva 75 famo qua allora ok sto a 16 quanto fa ma non so come funzionano ste cose eh quelle cose sono i moltiplicatori che spiegava prima Clint secondo la mia logica se prendo questo il rosso quanto moltiplica il rosso moltiplica no quello interno moltiplica 2 quello esterno moltiplica 3 questo io ho capito oppure forse era l'interno 3 l'interno 3 e l'esterno se adesso a me manca 8 io se faccio 4 4 lo devo fare qua tipo qua beh l'ho preso beh bello ok adesso mi manca 4 allora spesso quindi se io in teoria potrei farlo ok ti manca 3 3 e dove cacchio devo tirare? l'uno sull'uno sull'uno dove? no pure prova a prendere il 3 dove cacchio è il 3? il 3 in basso ok il 3 e poi nella zona nera del 3 provo un po' è sicuro ok ma non era doppio allora serve fare quel coso là devi prendere 1 però che vale 3 allora se questo è un 2 ad esempio oddio ma è complicata sta roba ho vinto vabbè per il balletto frocio mi fai giù è ok siamo qua al grande Senora Desert per la sfida tra James la sfida per lei e Clint Eastwood 82 esatto che andrà in semifinale sarà una sfida veramente difficile per me perchè Clint venendo dal far west dovrebbe essere abituato a giocare a freccette eh sì guarda vedrete proprio sempre il bersaglio colpito appieno guarda che completo come un completo così ragazzi così se gioca a freccette vestito in questa maniera e guarda io come sono vestito col casco col casco ok ma nel maiale ho preso ma che no che merda vai si guarda che attraverso ah facciamo un kids per premio con carico vibra il braccio però c'è attenzione ah 25 un altro 25 no al centro attenzione un altro fa dura per te guarda come vibra è un tilt cazzo attenzione gioca brutti scherzi Clint bravo coraggio coraggio ma vabbè ma ho capito vibra più da una lavatrice vabbè ma non è detto pure se scavi che poi devi arrivare a zero io devo arrivare a zero non è fai oh attenzione però ti fa dura per te Clint ho il paradossio il gioco a sto gioco cazzarola ho sbagliato e andiamo andiamo un cazzo vabbè ho capito va attenzione nello stesso punto 25 no schifo quanto devo fare tra vittorie e 50 93 o meno faccio il centro vinto no porca puttana potresti vincere se fai due centri ma quanta che lanci di merda che fai ok non può che vincere così percette è un gran gioco per me sono entusiasto di stare in questo vedo vedo questa arena di combattimento me l'ha messo lui pensa per pietà mi ha messo proprio il coso al centro devo fare 25 quindi se faccio il centro vinto no non era doppio sballato attenzione c'è ancora speranza c'è ancora speranza per Clint Eastwood io dovrei fare no questo è 25 va bene va bene devi fare 39 quindi il 50 non vale più eh no 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 non farlo sennò sballi 39 quindi devo prendere 14 14 20 eh che cazzo di ponteggio strano vabbè uno easy uno easy eh infatti bravo e prendi il 9 magari così ti aiuto così dopo devi fare 5 ma non si legge ma chi la ma tu cazzo l'hanno comprata dai città dai burundiani stai questo disco ha questo 1 oh dai 10 attenzione Clint potrebbe vincere io devo far 15 ma c'era il 19 avevo vinto ah ma sassanculo non me l'hai detto apposta per la vittoria 10 devo fare 5 per 2 eccolo qua forza no perché non puoi fare il coso do insta capito ahhh te vale quello tuo porca puttana qua per la vittoria 10 quindi 5 per 2 forza sbaglia sbaglia no merda ancora c'è speranza vai il destino no non ci credo 5 quindi rifaccio un bel 4 qua no ha vinto no era un doppio allora dovevi fare quello esterno ah non c'è un cazzo vaffanculo mi stai fai sbagliato sbagliato porca della puttana 2 devo fare 3 sto capendo 1 no non avevo vinto ma vaffanculo porca della puttana bella partita stringimi la mano virtualmente e belle mutande le mie è stata una bella partita tamblur dimmi è il momento di aprire le danze con quella che sarà probabilmente la partita più come al solito competitiva della del video moa lu che cazzo fai mi stai parlando per distrarmi no mi parli per distrarmi assolutamente ah si vede vuoi vincere vuoi vincere perfetto ok ah l'ho sentito quando sbatti la lingua sulle due due labbra ma che cazzo stai dicendo mi dà molto fastidio e si quello vuoi farmi alterare vuoi provare a creare in me una sorta capito mi devo sentire quasi quasi al di fuori di questa partita cioè devo giocare con la mente ma non con il corpo mi stai dando fastidio ti prego di smetterla alla si fa così scommessa su mollura perchè eh perchè tanto mollu vincerai te che feo io scommetto non posso scommettere su di te posso scommettere solo su di me io ho scommesso ben 100.000 dollari su di te ma non puoi si non si può fare si posso e tu puoi eh 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 chi ti andrà vedi non te preoccupa oh dai bella per te pugnetto vediamo come vai va a lei va alexandra attenzione lancio secco lancia per primo chi si avvicina ok beh nessun problema c'è mollu sinceramente te lo dico ahah io si che schifo ahahahah cazzo hai fatto duro eh oh mettiamo la mano che è devo prendere il pentazimin bella per mollura che lancerà per primo ah mollura 301 come le visual di youtube bloccate eh molto oggi questo video game boom 50 holy shit come la mettiamo questa ma che uomo che bestia boom adesso tipo la mette in mezzo cosa succede si spaccarò le frecce ma vabbè buono buono va bene così non male non male mollura vediamo se la mia tecnica che ho pensato in questi giorni eh sì non ho una vita funziona bam ah bam ah si si ma lo so non me l'aspettavo di mollura ah guarda che uuu azzo 1 mate vado al 50 vaffanculo beh vado al 51 guarda è un passo effettivamente attenzione dai non è giusto però così cioè non mi sembra valida come situazione ho totalizzato un video a 60 nooo guarda che culo cioè hai avuto culo qua eh frate eh largo eh tanto vale fa 38 come cazzo fai ho fatto un'ora qui te la potevo già aver chiusa eh porco due te la potevo già aver chiusa io ti dico solo questo attenzione mollura uh la infila lì proprio lì beppe è incredibile incredibile cristo attenzione cazzo eh niente ah non è un doppio ah mi sono dimenticato di una regola amen cioè devo fare due volte lo stesso punteggio per vincermi eh mi sa di sì ah lol buttata così invece tipo come fai a fare una doppio con 13 eh mo così eh geniale quale cazzo è il 5 geniale eh quello in basso a destra questo non era un doppio tararataratarataratar cioè ma lui so te lo ho perplessi te lo devo di proprio sincero sono un attimo stranito eh 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 per la vittor Ah aspetta devi far 5 per 2 quindi Eh ma che te lo vengo a dire eh Eh vabbè si va su google Ah buono Ah è quello il 5 Mortacci le quinto lo dice Eh butta l'affanculo Hai sballato zi Ho sballato ma perché forse avevo capito Non lo so sinceramente No ma non l'avrei fatto comunque Il mio cuore è lo stereo Ah Eh beh dici vai sul sicuro no Uno Cazzo il dio Dai messa fora Ah ma mollu sono un attimo infastidito Da questo atteggiamento che ci sta riservando Porco 2 no niente Ho capito ho capito No dai spiegati prego Ma come r2 stabilizza Ah non lo sapevo Eh manco io Ah 36 diretto Ma devi fa 2 Ma come Ah Sta a vedere che è così guarda Ah ahimè non l'ho capito Mi dispiace Eh vado Eh Vabbè però no Cioè Chi pensa di più zio Mister Robot Mister Rubot Ma che chi pensa di più per dio Ma non sapevamo le regole Zitto scemo Zitto scemo Zitto scemo Allora sono appena finiti i quarti di finale e sono passati rispettivamente io giallo vero mollu e jtaz Ora procederemo con il ripescaggio dei tre che sono che hanno perso che sono Gianmarco Clint e Chakra Vai Pronti siete pronti siete tesi Yes Vai Prima legge non ce l'ho più subito Vai 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 Ed è uscito il numero 3 Prego vai Chakra è venuto è stato ripescato Chakra fuori Perfetto Allora adesso andiamo al bar Vuli al baretto Vuli al baretto Dovemmo fare adesso dobbiamo fare gli accoppiamenti Ci accoppiamo Basta che non mi fate accoppiare con Gian Numero 1 io contro il numero 2 Jtaz Uuuu Chakra Bello Chakra Io contro Jtaz e mollu contro Chakra Mollo è strong Quando veniva le birre al bar era sempre più forte Proseguiamo con le semifinali Rip Don siamo qua per la per una delle due semifinali Pronto ad ararti giallo Non ti senti intimorito dalla mia presenza Eh sì Guarda che la forza dei miei pelucce è forte in me Porca vacca Allora prima io volevo scommettere 1000 dollari su Chakra Ma purtroppo non si è potuto fare Quindi anche questa volta scommetterò 1000 dollari su di me Dai bravo su di te Tanto sei bello Stiamo per chi inizia a tirare Tan 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 Forse non è neanche Hai preso? Io sì Attenzione Ho fatto sempre a me che c'entro Jimmy per te Ok Va bene va bene va bene No ho sbagliato Ah Eh io ho sfanculato Io ho sfanculato male Quello penso che sia 100 No Eh centra Ah sì è centra centra 75 Sì pure quello 125 per te Bene va bene Eccolo Eh vabbè qua è arrivato il professionista E siamo due Attenzione Ci sarà un motivo per cui E siamo tre Guarda che chiusino di merda Sono sicuro che ogni volta su GTA 4 Quando ci stava Roman che ti chiamava e ti diceva Ehi andiamo a giocare a Freccette Tu ci andavi tutte le volte E ti sei allenato per anni In attesa di questo fantastico video Non ci andavo perché non ha mai avuto GTA 4 Ma questo le persone non lo sanno Attenzione però il Jimmy risponde Ah Pam Andiamo Cazzo cazzo Ah Sbagliato No centro attenzione Ma che culo Siamo a 400 Ho sbagliato Potevo farcela Va 26 26 diviso 13 Ci sta 13 13 No 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 non c'è Ah Porca puttana Allora faccio 10 Attenzione Doppio 10 Ah tocca ancora a me Sto a 6 quindi doppio 3 posso fare 3 per 2 Porca 2 Attenzione potrebbe vincere già qua Jimmy Vediamo No 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 26 Può fare un 13 per 2 Dov'è? Non c'è il 3 Anche io sono stupido Ehm Mi sa fare come il Jimmy No mannaggia me Dai La vittoria Che te ne mancano 6 Cazzo devi fare il 2 più 3 No No Please No Ci speravo tipo un botto Ci speravo un botto Più combattuta questa di quella contro Clint Stringimi la mano virtualmente Jimmy La sto stringendo Passo alla finale Sì respettando Stai che ti dico Sono fiducioso Fessi addirittura di vincere forse Dai pugnetto Ok Vai Pugnetto Vai Toa va Guarda Fa sto capello Lasciami stare Sono li luci vert Che schifo No qui fabio è fabbio noti da fuori tutto scusa colico che scusa Non ti sei pregonto prego pronti sento Vai no fabio sa le mosse strane no raga boom 120 siamo a 180 forse cazzo quanto trema cazzo quanto trema e niente 161 ma io non li conosco sti trucchi Beh ti lo avevo messo io hai capito ma ti copio No Mmm No, no mi spiace No raga sto volato Sto sei maniato No Ah si l'ho preso è buono No no l'ho preso che vuoi No freaking fucking mollo Ma tiralo per la vittoria Tiralo di nuovo lì fabio farò così Fabio ma quanto quanti anni hai che giochi a freccette Eh cristo Un tot un tot zio un tot Sento le goccioline di sudore che mi scendono dalla fronte Addirittura Si Bono 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 si ma Bono Bono No Mi dispiace c'è però Fabio sbagliala per favore Te la devo chiudere così Ciao E' stato un piacere Un altro stipendio Chi lo dice? Che lo dice? Cazzo gli sfami con le gole a torre Eh ho capito ma già il mese scorso l'ho passato così Non è che posso proprio mangiare solo con le torre Giustamente Giustamente Bene ragazzi in finale siamo arrivati io e Mastro Gianluca Eccomi A quanto pare i più forti Sì I fortissimi Abbiamo deciso di fare al meglio delle tre per dare un po' più di competitività agonistica A questa finale Attenzione Bam Bam Così Questa non mi è piaciuta Vediamo Attenzione Vada vada Io non sono Non sono o chakra o quello che hai affrontato prima Gianmarco Io sono Sono abbastanza competitivo Azzo 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 Ah un peccato 150 ho fatto Chiaro Cazzo Attenzione Ah tu vai per i 20 per 3 Mamma mia Attenzione Ci provo Un po' la pressione qua Porca trova Niente Andata male questa Andata male Già è partita col piede sbagliato Uppla lai Giallo cazzo nerdi più di me però animale Bam Niente Giallo è fortissimo Attento Sembi deluxe Eh vabbè adesso Non esagerare Attenzione però Si rifà sotto Con un 20 per 3 Un altro 20 per 3 Uff Attenzione 66 Eh no ma la chiudi Ma me la chiudi Allora te la posso chiudere Facendo così Come ho fatto prima A Jimmy Dice Bam Eh niente È il primo round Me la giudico Bravo 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 Complimenti Secondo round Attenzione Venti dai Era lì Quanto cazzo si muove Sta merda di cosa Niente c'è la pressione Niente c'era 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 la pressione della finale No l'ho sbagliato No Ai 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 È un po' di pressione Ce l'hai anche tu eh vedo Però ti ho recuperato subito Bravo Complimenti Siamo pari Attenzione Ai 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 Hopla dai però Attenzione Dai eh Grigio Ah no 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 Ah no no Ti posso Faccio uno Venti E quaranta Chiusa Uno a uno Boom Buona La tensione si taglia Con un taglia Ah Gianluca Però Eh Recupera così Con un 50 Bam Non male Non male Non male Lo spirito di sollievo Vermullo Un'evolta che becca Il per tre Bam Ah Ah no l'ha preso Vai 180 E via così Ah No niente È finita È andata al varetto Anche questa Non è detto Perché io adesso Cosa dovrei fare Eh ciao Aia Sa che mi dovrò Accontentare Questo giro 36 16 per la vittoria Cazzo Andiamo così Dove essere Il lancio della vittoria Seee No Cazzo Mamma mia Come te l'ho chiusa Questa Da 76 Figlio di puttana Pezzo di merda Complimenti Mollo È stata una bella finale Stringimi la mano virtuale Stretta di mano virtuale Che schifo Gianluca Ce l'hai sudata È tutto sudata Qui niente Ha vinto giallo Tatara Ho riuscito Ha vinto Gianluca Il campione Il campione del torneo Freccette Me la godo L'ha vinto Gianluca E niente E già Gian lo sbaglio È la seconda cosa Che vince No La prima A posto Volevo farti sentire inferiore Pizzo Che basta E solo uno E niente Quindi Direi che questo Torneo di freccette È finito Io spero che Questo video Vi sia piaciuto Nel caso Vi esorto a lasciare un like Mi piace un commento Se non l'avete fatto Mi iscrivetevi Ci vediamo al prossimo video Se vabbè Dai Clint Non lo sai neanche a fare Non lo sai neanche a fare Merda Grazie